Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovissimo video! Oggi parleremo di manicure, di semipermanente. Se mi seguite da un po', sicuramente avete visto il primissimo video, ormai caricato due anni fa sul canale, del semipermanente Fai da te. Due anni fa, forse anche più di due anni fa, decisi di intraprendere questo percorso totalmente da sola e non sto qui a dire fatelo anche voi, assolutamente no, ci sono le professioniste, andate da loro. Io sulle mie unghie faccio quello che voglio, quindi ho intrapreso questo cammino. Sono stata molto avvantaggiata, perché conosco diverse persone che fanno l'estetista per lavoro e quindi mi hanno aiutato in questo percorso, perché se sbagliate potete veramente rovinarvi l'unghia. Quindi fate veramente attenzione se ve lo fate da soli. Comunque, in particolar modo, sono stata aiutata da una delle mie mie amiche, che è estetista e che oggi si è prestata nel far vedere tutti i passaggi nel dettaglio. Quindi vediamo una professionista in azione e non me, che appunto sono autodidatta. E andiamo a ricreare questa manicure molto, molto primaverile, estiva, dai toni del lilla, del pastello. Super di tendenza, grazie al kit che mi è stato gentilmente inviato da Cassini. Penso che si legge così, voi sapete che io non ho proprio un'ottima pronuncia, anzi peggio. È un brand che trovate su Amazon, sotto vi lascio il link. E praticamente all'interno vi escono, vi faccio vedere, 500 colori. Perché sono veramente 500 colori, sono 24 colori. Vedete? 24 colori, un top coat, una base e un top coat opaco. Quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta, se dare un glossy o un opaco. Vi mostro. Vedete? Avete sia l'alternativa opaca che l'alternativa glossata. E una base, perché appunto è alle prime armi, è super comodo come kit. Perché poi avete l'imbarazzo della scelta, veramente tantissimi colori. Io se riesco vi faccio anche il close up dei colori su un foglio bianco. Così vedete effettivamente tutti i colori, perché il bollino come sempre inganna un po'. E sempre sotto nell'info box vi lascio i colori che abbiamo utilizzato. Abbiamo fatto un mix sia di questo marchio che di altri marchi. Comunque sotto, se siete curiose, vi lascio tutto. Prima di passare al video, se volete supportarmi... No. Prima di passare al video, se volete supportarmi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e se vi va, seguitemi anche su Instagram. È totalmente gratuito e ovviamente se vi fa piacere, fa piacere anche a me. Come un primissimo step andiamo a dare la forma alle nostre unghie. Questo è molto personale e soggettivo. Io ad esempio tendo sempre ad assecondare la forma naturale delle mie unghie, che tende a lamanderla. Ho portato anche per anni la forma un pochino più a punta, che mi piaceva tantissimo, ma ora come ora non mi piaccio con nessuna forma se non quella manderla. E ho anche il problema per la lunghezza. Non mi piacciono su di me le unghie troppo lunghe. Prima le amavo super lunghe, ma con gli anni si cambia. Ebbene sì. Va a limare un lato alla volta facendo la sua forma e la lima non la utilizza in modo zigzag, ma in un unico verso. Cerco di farvi un close up più close up per farvi capire meglio. Come secondo step va a spingere le cuticole con lo scalzino, che è un bastoncino d'arancio, ecco, ma in acciaio molto più efficiente rispetto al bastoncino d'arancio. Infatti io sono rimasta scioccata e voglio assolutamente questo scalzino. E ho detto, ma che cosa è lo scalzino? E mi ha spiegato appunto che è comodissimo. Ovviamente bisogna prendere la mano. Io ne ho uno molto simile, ma non è così veloce. Cioè, questo veramente va a rimuovere qualsiasi pellicina appiccicata sull'unghia. Cioè, favoloso. E poi con una tronchissina andiamo a rimuovere l'eccesso di cuticola. Mi raccomando, ragazze, l'eccesso di cuticola e non tutta la cuticola. Perché comunque le cuticole fanno da protezione all'unghia. La domanda che le ho fatto è stato qual è il modo per non tagliarsi? Perché io molto spesso mi taglio facendo questo passaggio con la tronchissina e mi ha semplicemente risposto che bisogna imparare a utilizzarla. Quindi con la pratica e il tempo. Poi con un passaggio che non conoscevo sinceramente, perché io non lo faccio e voglio assolutamente comprarlo, con una punta della fresa morbida, va a eliminare il foglietto epiteriale che è rimasto sull'unghia, appunto tra l'unghia e la cuticola. E con questo passaggio, ragazze, vi dico che l'unghia sale molto di più. Quindi l'unghia sembra ancora più lunga rispetto appunto a quella che abbiamo. Ed è veramente favoloso. Non fa assolutamente male. È proprio come se andate a spingere senza dolore sulla cuticola. Poi con un buffer 100-180 va a opacizzare completamente la nostra unghia. Cerco di fare il close up anche in questa parte, perché è fondamentale, questo è uno step fondamentale, per far sì che poi il semi permanente non si stacchi durante le settimane successive. Va a fare una limatura generale. Si focalizza poi sui laterali girando il buffer e infine fa il giro cuticole, che è la parte più importante, perché diciamo che il punto debole del semi permanente è il giro cuticole. Quindi vocalizzatevi su questo punto. Io ad esempio non ho questo buffer, ma ho il classico buffer quadrato. Questo qui in particolare ha due lati, tra l'altro. Il lato sotto è molto più liscio e lei dopo aver fatto questi passaggi, quindi superiore, laterale e giro cuticole, passa l'altro lato, che è molto più morbido, e rimuove anche l'effetto polverina che lascia il buff. Quindi da avere, ecco, un'altra cosa da comprare. E poi con un cleanser e uno spruzzino va a rimuovere completamente la polverina che è rimasta, ecco l'eccesso di polverina che è rimasto, sulle nostre unghie. Passiamo poi al Nile Prep, che è uno sgrassatore per le unghie. Il consiglio che ci dà lei è di scaricare il pennellino su un fazzoletto per poi passare alle unghie. Cosa importante di questo passaggio è di non applicare il primer sulle cuticole, perché è un primer acido, ma anche quello non acido non è consigliabile applicarlo sulle cuticole. E qui è un errore che io facevo, quindi assolutamente dalla prossima manicure eviterò di andare troppo vicino alle cuticole, quindi fare il giro cuticole, sì, ma non super appiccicato. E poi, come avete visto, passa a coprire il resto dell'unghia. Tra l'altro è uno step semplicissimo da fare, rapidissimo, perché in 30 secondi il primer si asciuga. Passiamo poi allo step della base. Jex ci consiglia. Sì, ragazzi, io la sto chiamando Jex, perché lei ufficialmente si chiama Maria, ma per noi amiche è Jex. Ci consiglia di applicare una piccola quantità di base al centro dell'unghia, sulle quattro unghie, e poi alla fine farà il pollice. E una volta applicato, con un pennellino, va a massaggiare questa base. Questo step ci permetterà di far aderire benissimo la base alla nostra unghia, e di conseguenza il nostro semi permanente durerà molto molto di più. E inoltre risulterà anche molto più sottile l'applicazione con un pennello apposito rispetto all'applicatore del packaging, ecco, dello smalto. Dopo aver applicato la nostra base semi permanente, andiamo in lampada per circa 60 secondi, in base ovviamente alla vostra lampada. Quella LED ci metterà molto meno. Dopodiché passiamo all'applicazione della base gel. Questo è un passaggio che lei fa in più. Io, ad esempio, lo faccio sempre per far sì che poi il semi permanente duri molto di più e sia anche molto più resistente. Non è proprio un gel, quindi non è spesso come il classico gel, ma è sicuramente più spesso rispetto a una base semi permanente. E fa lo stesso identico passaggio di prima. Mette un po' di prodotto sul centro dell'unghia e con un pennellino diverso da quello di prima va ad applicarlo normalmente e mi raccomando anche in questo caso non applicatelo sulle cuticole perché una volta che poi andremo ad asciugare il semi permanente e si appiccicherà appunto alle nostre cuticole, quando crescerà l'unghia automaticamente si alzerà, cioè si staccherà anche il semi permanente perché è come se ci fosse un rialzo, un appiglio appunto, si rovinerà la nostra manicure. E poi andiamo in lampada, anche in questo caso per 60-90 secondi. E ora finalmente passiamo all'applicazione del nostro smalto. Qui ho scelto 5 smalti differenti, anche di consistenze differenti e anche di marchi differenti. Un parere molto personale che in realtà mi ha anche confermato Jex è che gli smalti di Mesauda, quindi il primo che ho applicato, che voi vedete applicato sul pollice, è molto molto più liquido, molto più fluido come smalto rispetto invece a quelli di Passione Unghie, tipo il secondo è di Passione Unghie, è molto più denso, più corposo, quindi già come una sola passata vedete che il prodotto è anche più spesso sull'unghia e anche rispetto a questi qui di Castany, ogni volta lo pronuncio in diversi modi, comunque anche questo assomiglia a quello di Passione Unghie, quindi è molto denso, ma non denso quanto quello di Passione, quindi questa è una via di mezzo e anche a Jex è piaciuto molto come prodotto, perché appunto era la prima volta che lo testava e mi ha dato anche un'opinione, diciamo tecnica rispetto alla mia, che è soltanto visiva, ecco posso vederli a confronto e in base alla stesura, e mi è piaciuto anche perché abbiamo fatto soltanto due passate di questo marchio, anche due passate di Passione Unghie e tre passate di Mesauda, perché come vi dicevo appunto è molto più liquido, quindi per avere un colore pieno bisogna fare minimo tre passate. Utilizzo da anni sia Mesauda che Passione Unghie e mi sento di consigliarveli entrambi, sicuramente a me personalmente come base e top coat piace molto di più quello di Passione Unghie rispetto a quello di Mesauda, invece di Mesauda amo follemente i primer, infatti anche Jex ha utilizzato un primer di Mesauda. Come tempi di asciugatura sono uguali per tutte e tre i marchi perché variano da 60 a 90 secondi, quindi rapidissimi. Dopo che siete soddisfatte del vostro colore, mi raccomando, tra una passata e l'altra c'è sempre lampada di mezzo, quindi una passata, lampada, seconda passata, lampada, terza passata, lampada, non è come lo smalto che fate una passata sull'altra. E poi si passa al top coat. Anche qui potete decidere se farlo luminoso o farlo opaco. Io in questo caso vado sempre sul luminoso ma perché sulla mia mano non mi piace opaco. Proverò perché soltanto una volta in vita mia l'ho provato opaco e non mi è piaciuto neanche la tenuta perché il luminoso è molto più bello anche nel corso delle settimane successive. L'opaco tende sempre prima a rovinarsi e per una questione di comodità appunto preferisco il luminoso. come marchio le ho utilizzato l'Antarctic che è un marchio che io personalmente non conoscevo ho conosciuto grazie a Jex e mi sono follemente innamorata. Costa leggermente di più rispetto appunto agli altri brand che vi ho nominato prima ma è da provare. Tra l'altro è veramente luminoso, specchiato, bellissimo. Quindi anche questo da aggiungere alle cose da comprare. Penultimo step sgrassiamo tutto quello che abbiamo fatto con il nostro cleanser o con uno scottex o con un pad come vi trovate e ad esempio lei preferisce lo scottex perché assorbe molto meglio io preferisco il pad è molto personale ecco. Ultimo step è andare ad applicare olio, cuticole e crema a mani e questo è uno dei passaggi più rilassanti più belli anche perché Jex fa anche i massaggi alle mani io personalmente non li faccio a me stessa ma ogni volta che vado da lei mi rilasso da morire proprio da morire e questo è il risultato finale vi lascio le clip nel dettaglio è bellissimo io lo stramo ovviamente l'ho scelto io ecco i colori li abbiamo abbinati insieme e fatemi sapere voi che cosa ne pensate sotto nell'info box vi lascio anche i profili di Jex se siete interessate lei lavora su Roma se volete contattarla potete farlo tranquillamente in direct su Instagram se avete domande curiosità scrivetemelo sotto che io ho poi contatto Jex e vi rispondo tecnicamente questa volta mi sono preparata non è come il primo video dove ero veramente un fai da te e dicevo un po' di tutto qui vabbè dopo due anni di esperienza è lei che appunto mi fa da insegnante è un pochino meglio e questo è tutto ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciateci un pollice in su come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video come sempre vi mandiamo un fortissimo bacio e ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi saluta bene 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 Grazie.